D'Arel cerca di andar via Il panone interessante al centro Colpo di testa 4 a 3 4 a 3 4 a 3 Occasione importantissima Per la formazione giallo-blu con Piero Bon Che avete visto è andato al servizio al centro Per Udoge Una grande, grande occasione per l'Elas poco fa Un Elas che deve giocare così Deve comportarsi così se vuole rimettere a posto Per l'ennesima volta questa partita D'Arel Buono il suo spunto Palla al piede per il numero 14 Buono anche il servizio E ne provo ancora C'è spazio Elas ancora in area Occasione questa per il giallo-blu Al centro Per Amaya di testa Occasionissima Con un grande però intervento Bertini di prima per D'Arel Ancora la sovrapposizione da quella parte Con D'Arel che sterza Prova ad andare via Attenzione giocata da parte di D'Arel Poi cerca di sterzare ancora una volta Viene poi toccato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti